Prima erano tutti i smanettoni dei computer, non c'era minimamente l'idea che mettere dei video su internet potesse darti un lavoro, però c'era questo divertimento nell'essere smanettoni. Oggi invece praticamente il telefono di default ti dice come caricare i video. Questo non vuol dire che se TikTok non vedo cose incredibili montate da paura da sedicenni di tutto il mondo, vedo dei meccanismi di montaggio fatti con l'iPhone che sono senza senso. Il meccanismo pericoloso è la facilità con cui puoi prenderti un rischio mettendoti su internet, cioè il telefono registra, internet ce l'hai sul telefono, puoi di una stronzata, la carichi su internet. La posta in gioco non è altissima, capito?